Ad un anno dal lockdown cominciato a marzo 2020, questa volta non comincia un lockdown bis ma ci somiglia parecchio. Da mercoledì 10 marzo e almeno fino a domenica 14 marzo anche la provincia di Pesaro Urbino viene blindata in zona rossa. Rispetto alla zona arancione che si conclude oggi le limitazioni diventano ancora più stringenti, a cominciare dagli spostamenti. Al presistente divieto di spostamento fra regioni e fra comuni, la novità è che non ci si può spostare nemmeno all'interno dello stesso comune di residenza salvo comprovate esigenze di lavoro e salute. In parole povere si può andare a lavorare, rientrare a casa, fare la spesa e poco altro. Sempre che si faccia parte di una categoria alla quale si è consentito lavorare, perché la novità in zona rossa è che chiudono anche le attività commerciali. Chiudono i negozi al dettaglio e chiudono anche servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Restano aperti solo i negozi di prima necessità, generi alimentari, supermercati, vendita di articoli per l'infanzia, edicole, tabacchi e farmacie. Restano aperte anche le lavanderie e le vendite di prodotti agricoli e florovivaistici. Chiudono al pubblico bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, attività in cui resteranno consentite solo la consegna a domicilio e l'asporto ma senza la possibilità di consumare sul posto. Giro di vite sulla scuola, chiudono anche gli asili nido e le scuole materne. Alle elementari, medie, superiori e università si va avanti con il 100% di didattica a distanza. Rimane invece la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e per le attività laboratoriali. In tema di cultura chiudono musei e mostre ad eccezione delle biblioteche con servizi offerti su prenotazione. In ambito sportivo sono sospese tutte le competizioni salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal Comitato Paralimpico. Attività motoria e jogging restano consentite solo in forma individuale e nei pressi della propria abitazione.